Allora, uno normal, due basta che ce tratti un luci, tre basta, è un po' a parte più. Hai i moroi quando cazzo? Quanti era? Poi se voglio altri consigli, ci sono del problema, anche perchè lui lavora la presa. No, no, io ho detto che non posso dare triste. Ma non si riveglie! Non posso dare triste? Non posso dare triste. Perciò lo voglio dire anche io, però. Ma io che sto qua, sono trintata.